Ci sono segnali positivi per una ripresa di Alberto. Ringraziamo tutte le persone che ci sono state vicine e per le tante dimostrazioni di affetto. Ci stringiamo alla famiglia di Marco in questo momento di dolore. Poche righe soppesate ma dense di significato, quelle che ci affida la famiglia di Alberto Pina, il 31enne di Cordiniano che si trova in prognosi riservata al cafoncello. Le condizioni di salute del ragazzo, questa l'unica buona notizia nelle ultime 48 ore, stanno migliorando. C'è poi il pensiero fisso della famiglia Pina verso un'altra famiglia, quella di Marco Bettolini, il 46enne bassanese morto giovedì pomeriggio nell'autoclave dell'azienda Cadearraio nel tentativo di salvare il giovane. Un gesto di altruismo, anzi di eroismo come hanno ribadito anche i colleghi, ma dirlo sono in tanti, compreso il sindaco di San Polo. La resta appunto il gesto altruistico e di eroismo da parte di Marco. Questo è un momento anche di silenzio soprattutto perché bisogna rispettare il dolore, il dolore forte di un'azienda che appunto nei propri dipendenti investiva e li considerava appunto come famiglia, ma i dolori soprattutto anche delle famiglie coinvolte in questa tragedia che sicuramente avranno tante domande e appunto poi la procura e fortunatamente come ho sentito anche magari le immagini potranno chiarire le dinamiche. Immagini delle telecamere che come emerso saranno fondamentali nell'inchiesta che nelle scorse ore ha segnato il passaggio quasi obbligato della notifica dell'avviso di garanzia nei confronti della titolare dell'azienda Sandra De Giusti per i reati di omicidio e lesioni colpose. È stato poi disposto l'accertamento tecnico irripetibile dell'autopsia. Il conferimento dell'incarico da parte del PM al medico legale avverrà lunedì mattina. Non entra ovviamente nel merito della singola vicenda il ministro Carlo Nordio che però da treviso fa una riflessione generale sulla strage senza fine sui luoghi di lavoro. Questa ovviamente non è in gran parte della mia materia però per quanto riguarda le eventuali sanzioni penali effettivamente su incidenti del lavoro stiamo lavorando perché la situazione è intollerabile come ha detto il presidente Mattarella, siamo veramente davanti a un vulnus, a quelli che sono i principi elementari dei diritti civili e li interverremo. Grazie. Grazie.